a Arianna Niero in uno Chiara Di Lazzaro in due Martina Rampazzo in tre Irene Montanari in quattro Martina Battistella in cinque Giorgia Basso in sei Jessica Bosco in sette Anna Valiana in otto partite per la prima serie nuoteranno fra poco Chiara Visentin Idros in uno Alice Ricci Ghiselli Padova Nuoto in due Roberta Corazza Rovigo in tre Giorgia Perrotta Idros in quattro Elena Foradori duemila uno team in cinque in sei Benedetta Zoni Sogeis in sette Lia Bertoli sportiva Sogeis in corsia otto Ilaria De Negri unione sportiva Idros con l'arrivo Jessica Bosco trentatré e sessantadue miglior tempo fino ad ora Grazie a tutti Grazie.